Musica Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Princess Castle Noi siamo a Mirabilandia, oggi in compagnia di Bernard Giampaolo, direttore generale di Mirabilandia Ciao Buongiorno Allora, per iniziare direi di raccontarci la grande novità inserita all'interno dell'attrazione del Master Tie Allora, cominciamo già per festeggiare il 25esimo compleanno di Mirabilandia che mi sembra questo molto importante Quindi la grande attrazione è la realtà virtuale, la grande novità Sì, tra tutte le novità di quest'anno, questa è una novità che farà sicuramente piacere ai teenager perché abbiamo abbinato una trazione, un coaster e abbiamo aumentato la realtà con questo Samsung Gear ed ha un'esperienza veramente unica Qual è stata però la difficoltà principale? Sempre con la tecnologia è di abbinare il treno con il filmato perché se no c'è il problema del sickness, si sente male e quindi questa tecnologia non è semplice però ci siamo riusciti, abbiamo un partner molto bravo che è Samsung Non c'è soltanto l'immersività, all'interno della realtà virtuale c'è anche una storia Chiaro, allora l'abbiamo cercato di fare un po' tipo Indiana Jones perché comunque Master Tie ti porta, ti trasporta nella giungla però è una giungla un po' diversa Mi sa che è proprio il 25esimo anniversario oltre alla realtà virtuale, quali sono le altre novità? Allora, quest'anno abbiamo cercato di festeggiare quindi abbiamo investito moltissimo sui spettacoli abbiamo un bellissimo spettacolo al teatro il King of Pops e da luglio e agosto in serale avremo tutte le sere il festeggiamento del Compreano abbiamo la ruota che era più grande di Europa continentale perché London Ice è un po' più grande però è fuori Europa continentale abbiamo messo lo più grande schermo d'Italia perché abbiamo abbinato dei LED e quindi possiamo fare tutto un gioco con questa ruota con laser, con fontana e quindi un spettacolo ogni sera per festeggiare 25 anni di storia di Mirabilandia Io ti ringrazio per essere stato con noi per oggi è tutto, grazie Ciao a tutti Ciao